Ehi ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, e che si chiama GTA 5 E siamo tornati nell'online nella nostra fantastica serie E oggi avrai la possibilità di spendere i 100.000 dollari, giusto? Che hai vinto nell'ultima challenge che abbiamo fatto Sono molto triste di questo, cioè ci sto un po' rosicando, te lo dico Però te li sei meritato, perché la sfida della mina è stata molto complicata Ma non puoi rosicare adesso, dovrei rosicare quando sceglierò la moto, perché... Allora, io adesso faccio una cosa Sì, dimmi Siccome i soldi, noi li farmiamo assieme Io non avendo comprato club, ho tipo 650.000 Cosa mi compro con 650.000 per farti rosicare? Nulla Una nuova casa Non funziona così Ho deciso di comprare una nuova moto, perché per 100.000 secondo me posso comprare una vera e propria bomba E modificare questa non avrebbe senso Motociclette, ordina per prezzo E andiamo verso il basso E anche un quad mi ispira assai È bello Allora, vediamo fino a 100.000 Eh, qua ce ne sono belle A me quella a 100.000 tondi piace molto È bella, eh Vero? È bella, però ce ne sono anche al... No, dai, prendi quella 100.000 tondi, perfetti, spesi tutti, è molto bella Proprio nera così, secondo me è bella Sì Vero? Sì Tanto degli altri colori, manco me la fa vedere Andiamo di nera Acquista E me la faccio portare al Clubhouse Palito Bay 100.000 Vediamo, dovrebbe apparire? Andati Sarà presto consegnata all'altro Clubhouse Ah, giusto, bisogna aspettare che ci venga consegnata Giustamente Allora, per non farmi mangiare la vita dall'attesa Andiamo a vedere la nostra attività come sta andando, ok? Sì, assolutamente Vogliamo vedere se abbiamo davvero da vendere E soprattutto quanti soldi ci frutta Chissà quanto hanno lavorato Cioè, guarda, se non hanno lavorato bene li pesto No No li pesto Non può essere che non guadagniamo dall'attività che abbiamo pagato non so quanto 730.000 Ecco, ecco La cosa che in assoluto abbiamo pagato di più sempre Di sempre Più sempre 28.000 Ce li facciamo con una missione dell'MC Allora, aspetta Proviamo a vendere Magari ci danno un bonus, non lo so Vediamo un pochettino Accedi Vendi merce Non è che Cos'è? In base a dove la vendiamo Ci dà più soldi Se la vendiamo allo Santos Ci danno 42.000 dollari Andiamo Vendite così grandi potrebbero richiedere l'utilizzo di più veicoli Siamo i due, perfetto Assicurati di avere abbastanza membri prima di cominciare questa missione Ok, sei sicuro di voler vendere la merce prodotta da questo stabilimento? Conferma Che bello Sono pronto Che figata però che dobbiamo fare noi Oh no Ok Abbiamo un problema gigantesco Dobbiamo andare con questi camion No ti prego Devi prenderne un altro 10 chilometri con questo camion Consegni effettuati da fare 10 E abbiamo 30 minuti Ah Ma perché ci complichiamo la vita? Ognuno per di più per la sua strada Perché abbiamo 5 consegni a testa da fare a persone diverse E allora aspetta Cioè ci dividiamo Fammi vedere Hai già il segno giallo eh Ti dice dove andare quanti chilometri Eh ma non vorrei che sia lo stesso Vabbè tanto sono tutti lì in zona L'importante è arrivare prima di tutto in città Esatto Cioè questa non l'avremmo neanche potuta fare in elicottero E voglia di portarti sta cosa dietro Segnale globale Cosa sta succedendo? Ho una scritta rossa a destra Segnale globale No Che siamo visibili Ok Perché quando facciamo ste cose Non ci mettiamo in una sessione privata Solo io e te? Per non farci beccare dei player Perché ci mancano solo i player Dai così è più divertente È più o meno È più o meno Guarda se li perdo allora non mi colpi eh Non lo so Non lo so Non mi colpa Comunque in poche parole Ora siamo visibili a tutta la sessione E tutti ci vorranno ammazzare Sì come sempre Come sempre Praticamente stiamo giocando a camion simulator Due ore in viaggio Sono lentissimi Sono lentissimi questi furgoni E poi neanche in compagnia Oh sono un po' in discesa Sto prendendo un po' di velocità Che emozione Non ci sperare Che emozione Passa presto Ci siamo ormai Siamo quasi arrivati Tu non hai capito Che io sono in città E mi sta facendo passare Tutte in viuzze super strette Con questa cosa Che è lentissima a girare Potrebbe andare peggio Aspetta sono arrivata Ovvero con dei player Che cercano di ammazzarti Per rubarti tutto Sono arrivata che devo fare Quindi non ti lamentare Allora sono quasi arrivata anche io Credo che semplicemente Dobbiamo andare nel punto indicato Dici Oh no arriva un player Oh no ti prego Lasciami in pace Aspetta Mi butto al punto di consegna Eh così ne consegni una No sto cercando di farmi Mi ha fatto esplodere No Opla Oh yes Mi hanno fatto esplodere Ma quindi è perso tutto Lasciatemi in pace Non lo so Non lo so Fammi vedere Dimmi di no L'hanno fatto esplodere Perché adesso infatti abbiamo Sei consegne massime Perché tu ne avevi fatto una E rimangono le mie quattro possibili Prima che mi ammazzino Quindi quel player Infatti mi dice di aiutare Devo venire da te Io lo ammazzo E qui a fianco Sì 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 Ammazzalo 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 Perché se mi punta Siamo fregati Eh ma ho ucciso C'ha troppe armi Speriamo ci paghi abbastanza lo stesso Cosa ti devo dire Perché ci devono sempre rovinare Le nostre missioni Io te l'ho detto Noi stavamo soltanto Consegnando documenti falsi Siamo brave persone Esatto Sono documenti falsi Non volevamo disturbare Niente nessuno Allora ma non lo so giocare Sto qua eh Cioè davvero Io ti spacco la faccia Vieni a sfidermi nella realtà Che ti distruggo Vai per i nichi Minazzalo Ma facile con le armi Vieni a sfidermi nella realtà Ti ammazzo guarda Ma anche nella realtà Vince chi ha l'arma migliore Io allora Spacco in due la scrivania E la tiro in testa Non è una buon'arma Sto cercando di raggiungere te Perché almeno ti posso aiutare In che lo distrai Va bene Ok sono arrivato a un altro punto Scusi La stavo per investire Lo so è un po' difficile Girare col camion Non sei arrabbi con me Consegnato Me ne mancano soltanto due Ok Me ne mancano soltanto due Che disastro Il mio lavoro mi sta andando bene Ho la fortuna di aver incontrato nessuno Vedi se dice raggiungermi Io sto ricercando di arrivare da te Perché così almeno ti aiuto Così è una ferinichi Che mi difende No poi sempre a me Sempre a me Guarda la sfortuna che ho Tu non hai idea Non ti lamentare Anche perché ti lanciano un raggio Cioè tu muori Non è che ci puoi fare molto Capito Quello è il problema Ti raggiungo Ti raggiungo Ecco ti Sì perché succede Perché Perché tu fai sempre l'antipatica con tutti Attiri rivali e nemici Allora io prima di tutto Sono simpaticissima Ma quando Sono una persona che sta simpaticando Stai sempre minacciando di morte Tutto e tutti Ah perché se lo meritano Cioè se si comportassero bene Non solo Eccoti Non funziona così Eccoti Allora aspetta che devo Ok Hai buttato giù un palo Esatto Riesci a salire Cos'è questa cosa Mi ha fatto una schermata strana Aspettami C'è una signorina Poco Poco per bene Ammazzo pure lei Perché oggi non è giornata Quindi muoviti A giro A giro Aspetta un po' di retromarcia L'ultimo è un chilometro e sessanta da qui Perché ci tenevo un sacco a sta missione Perché ho detto che il camionista era il lavoro della mia vita Invece ho fallito Capito Ma puoi No 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 Sono un camionista fallito Ascoltami No Puoi redimerti Sai come Ci servono I camionisti non perdonano Ok Non perdonano i falliti come me Quindi ormai la mia carriera è distrutta Per colpa di un player Perché ti ho come vicepresidente del club Me lo spieghi Qualcuno dietro Sì ho notato Io gli sparo la faccia Allora scendi 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 E sparalo Veloce 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 Puoi stare in un veicolo Spara Distrailo E non mi fa sparare E lui E lo so che ti devo di No Non c'è niente per farlo esplodere No mi devi lasciare in pat E' sempre lo stesso Sempre lo stesso Sempre lo stesso Siamo stati pagati 24.000 Ci avevano avvertito che questa missione sarebbe stata complicata In base a quanti player ci sono nella sessione tu ricevi un bonus sulla vendita Ah ok ok Vabbè si assenza assenza certo Sono tristissimo Non ho mai avuto così tanta voglia di dire delle parolacce durante il nostro video Sto davvero maledicendo in silenzio quel tizio te lo dico Tutto in silenzio si fa Tutto in silenzio Sì 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 Me lo tengo dentro Me lo tengo dentro Però non sto pensando belle cose Torniamo nel nostro posto Io ti volevo dire questo Dimmi Possiamo ancora redimere la tua reputazione Ok sei come? Puoi ancora andare a prendere delle nuove scorte per far produrre nuovi documenti falsi E avere una nuova occasione Non in questo video ma in uno dei prossimi video potrai farti perdonare Sì poi dobbiamo tornare in effetti a prendere le scorte giustamente Certo che vanno riprese Vediamo se almeno il mio umore migliora Ok È il momento di vedere Di vedere se c'è la moto Già Spero che me l'abbiano portata sinceramente Entriamo Sì sicuramente dai Cioè spassa Vediamo Vediamo Non caricherei prima tu di me Sì Aspetta Voglio vedere anch'io Oh che bella però Non ha figato Te l'avevo detto di prenderla nera È bellissima Fighissima Allora Dimmi Giro di prova per vedere se è più veloce di quella precedente Andiamo Di dovere assolutamente Puoi salire anche tu? Non posso salire Sì che puoi Mi diceva non puoi salire perché appartiene a Steffi il magnifico Il gioco sta cercando Di farmi rosicare di più Capito? Ci si mette pure il gioco Era terribile quella scritta Adesso ci facciamo un super giro Guarda che figli che siamo O ti sparo in testa Noo stai facendo un brutto gesto Perché io in realtà ti volevo sparare in testa Vai Ma la prendo con le macchine Che dici di velocità? Non mi sembra A me sembra abbastanza quella all'altra Però ci Probabilmente devi migliorare comunque il motore Secondo me è sensuale Considera che tu sei un po' pesantina No tu sei Tu sei pesante Ho anche le molotov Quindi non mi provocare se non vuoi prendere fuoco Ok? Ok Ok Va bene Ma che accidenti stai facendo? Ma che fai? Oddio Oh siamo vivi Tutto a posto Ok Ehi Ho perso la moto Ehi Ho perso la moto Come l'hai perso? Il tuo vicolo per senso è tessuto Perché mexico Ma io non ci credo che fai stai cosa Ma durata 5 minuti Adesso Come accidenti ce ne andiamo Che siamo in mezzo al nulla Oh questa macchina Questa macchina Dimmi che ci arrivi Della forestale Non posso Fregatene Non posso La sto già sparando io Compriamoci un po' di armi Finalmente Tu non provare a spararci eh Ok stai calmo Buongiorno Ma ci prendiamo Allora Allora Io penso di volere un fucile da cechino Dici Allora Cosa voglio Cosa voglio Sì io il fucile da cechino me lo concedo E mi compro anche le munizioni Sono scontate le munizioni Per fortuna Così risparmi un pochettino Quindi me le compro tutte Lascia da guerra Comprata Io volevo anche Aspetta Ma te la faccio vedere Arrivo a 2000 pure io E poi lo mollo Perché c'è totalmente infinito Cosa ti sei preso Ho esagerato Allora questo è il fucile da tiratore Ok Il fucile da cechino Chi mi sta sparando La polizia Ma cavolo Sono solo facendo vedere le armi No no Sono stato io che sparavo Col fucile da cechino in giro Vai Fammi vedere Dorato Cioè quanto l'hai pagata Tipo 10.000 Ho una cosa da dirti No me lo merito Me lo merito Perché io non ho avuto Non ho avuto nessuna gioia In questi episodi Capito che me lo merito Il fucile rosa E la carabina dorata Mi sembra giustissimo Era per non averle tutte rosa Non esagerare Eh beh Eh beh Dovevo cambiare Puoi salire velocemente in macchina Mi si è crashato il gioco No Perché Perché mi capitano ste cose Il membro ferreniche Ha abbandonato la sessione Non lavora più per te Questa è una dichiarazione Oggi sono tristezze Questa è una dichiarazione importante Te lo dico Oggi sono tristezze Lo so Mi stanno inseguendo dei motociclisti Oh no E li sto facendo esplodere Oh no Li ho fatti esplodere due Sono troppo triste Era la missione più bella di sempre Preferi Niki Zappilo Non è tu Manchi Anche tu A mio fianco a sparare Mi avrei un tiso tu Lo so Devi rientrare per fare almeno il tatuaggio Almeno per quello Ti aspetto di fronte al negozio Triste Ma sei nella mia sessione almeno Non lo so Eccolo È una sfiga continua questo gioco Secondo me non sei neanche nella mia sessione Allora amici steffi magnifico Infatti non sei Vabbè Neanche assieme ci fanno stare Lo sapevo Tristezze Ti posso dare un'altra tristezza Dimmi Ho speso troppi soldi per le armi Non ho soldi per il tatuaggio Non me ne ero accorto Ho preso le scorte E Feri Niki è tornata È il momento È l'investe Ti avevo davvero investita? Sì ero qui dietro Scusa Aspettate Non volevo Mi ha investito malissimo proprio Te l'ho sempre meritato Perché mi hai lasciato il soldo Da che cavolo si finita Sono entrato dentro la mia attività Ah ok Ti vedevo qui dietro Non ti ho visto più sparire Cioè ti ho visto sparire Ok ok ci sono E Feri Niki per di più ha picchiato Non l'ho picchiato Praticamente sono entrata correndo Questo qua fuori nella Che era lì fuori Passeggiando Ha iniziato a prendersela Con me è entrato dentro Mi ha dato un pugno E si è chiuso il tatuatore E oltretutto il tipo è rimasto dentro Che ancora mi vuole picchiare Proprio dentro Chiuso nel negozio Non hai capito Rientriamo Chiuso per sempre No davvero Cioè si è buggato tantissimo Cioè stavo solo correndo Ma dimmi te che problemi Le hai fatto arrabbiare Le hai fatto arrabbiare Contro le persone che corrono Perché ogni volta che corri C'è con quello che ti vuoi picchiare Perché li fai arrabbiare Te l'ho detto Va sempre a finire così Tu fai arrabbiare le persone E le persone ti uccidono Ma stai zitta E poi tu sei triste Però vai va con il tatuatore Non sarà più il nostro tatuatore di fiducia Guarda No Mi sono arrabbiata Non c'ho voglia di farmi 5 km ogni volta A questi clienti Te li farai No grazie Te li fai da sola Io mi li faccio qua Tu te li fai là E ognuno sta per sé Ok Ti ho completamente buggato tutto Perché ho la missione attiva Ferinichi no Quindi lei si può fare il tatuaggio Io no Di conseguenza Non riusciamo a fare Neanche il tatuaggio A fine video Cioè Peggio di così Oggi non potevo andare Devo essere sincero Io me lo sono fatta Ok Da sola Sì Appunto che sta andando così male È una scritta Bad luck nella gamba Che vuol dire sfortuna Ok Perché mi sembra Guarda che questa volta Abbiamo trovato un tatuaggio Che racchiude l'episodio Anche senza fantasia Perché Perfetto Peggio di così Diciamo che me lo inizio a fare io Quando potrete Il prossimo episodio Appena iniziamo Lo faccio subito Così lo vedono E ce lo ricordiamo Assolutamente Quanto è proprio una scritta Gigante bad luck Sfortuna Sperando che non porti Non c'è altro da dire Cioè sperando che non porti sfiga Anche per il prossimo episodio Perché non si sa mai Comunque dai Ci fermiamo così Per questo video Poteva essere un video bellissimo Avevamo fatto un sacco di missioni Ma è stato bellissimo lo stesso Dai tante emozioni E invece Fereniki ci ha deluso Tante cose che vanno male Ci sta La vita di strada è anche questo Capito? Sono d'accordo Comunque dai Ci fermiamo così per questo video Prossimo video sarà di sicuro Un'altra challenge Abbiamo in mente diverse cose Vediamo un pochettino Cosa fare E cosa mettere in palio Esatto esatto Finiamo di decidere in questi giorni Ma si inizierà a fare sul serio Con i soldi Perché qua bisogna andare Un pochettino avanti Ragazzi Deci di decidere Se ci metto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao A la prossima Ciao Ciao